Continuano senza sosta le ricerche di Alessandro Napolitano, 73enne di San Giovanni Valdarno, scomparso da casa da sabato scorso. È stato il figlio dell'uomo a far scattare l'allarme, preoccupato anche per le condizioni di salute del padre che soffre del morbo di Alzheimer. Anche oggi, fin dalle prime luci dell'alba, un grandissimo dispiegamento di mezzi e di uomini abbattuto il territorio nelle zone limitrofe di San Giovanni Valdarno alla ricerca dell'anziano. Carabinieri, vigili del fuoco coadiuvati dall'alto anche dall'elicottero, forestale, Croce Rossa Italiana, l'associazione La Racchetta e il Gaib di Figline, polizia municipale di San Giovanni Valdarno, oltre naturalmente ai segugi del GUX di Terranova Bracciolini, tutti impegnati per rintracciare Alessandro Napolitano. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate soprattutto tra il cimitero di San Giovanni Valdarno e Santa Lucia. Nella tarda mattinata di oggi una segnalazione riguardante un uomo visto aggirarsi nella zona del Tasso, nel comune di Terranova Bracciolini, aveva fatto sperare nel lieto fine. La segnalazione però, alla prova dei fatti, si è rivelata infondata.